ciao benvenuto nel mio canale allora oggi ti faccio vedere e ti annuncio i servizi dedicati al mio canale allora come vedi se tu vai al mio canale vedi un nuovo tasto si chiama abbonati se tu clicchi qua ci sono i vari servizi in abbonamento che voglio dedicare ai nuovi utenti del mio canale e ai vecchi iscritti allora il primo è il sostenitore del canale è un classico un piccolo sostenitore per i miei video praticamente sono 3 euro al mese qua dice che il pagamento può essere annullato in qualsiasi momento qualsiasi abbonamento su youtube può essere annullato in qualsiasi momento ok non ci sono problemi quando decidi di abbandonare l'abbonamento basta che clicchi il tasto apposito risposta prioritaria questo però è praticamente per i commenti verrà dato la priorità ai commenti alla risposta ai commenti per gli abbonati naturalmente e costa 5 euro al mese naturalmente sempre come ho detto prima si può annullare in qualsiasi momento e poi praticamente 20 euro al mese assistenza live chat anche questo si può praticamente disdire quando 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 si vuole e qui in più avrai un contatto diretto in live chat con me se hai delle problematiche se vuoi un aiuto per esempio la configurazione della playstation per le porte se vuoi hai un problema con il modem o con la banda dice che non funziona che va troppo lento vediamo di risolvere il problema insomma un assistenza dedicata a 364 per i nostri insomma per gli abbonati del mio canale ok allora quando tu scegli fai abbonati metti tutti i tuoi dati questo è abbastanza intuitivo e fai continua e poi insomma youtube ti guida passo passo ok spero di averti fatto una cosa gradita ci vediamo al prossimo video ah preciso che i video i miei tutorial sono completamente gratuiti perciò per soffrire della visualizzazione dei miei video assolutamente non dovrai pagare nessun piano di abbonamento ok questi i piani di abbonamento è esclusivamente dedicato ai servizi extra cioè assistenza in chat nei commenti e un supporto forfettario per il canale ok perciò ripeto i video saranno sempre gratuiti ciao e a presto